Dovrebbe essere venuta, bugamelli dai, allora quando vedi che fa la foto vedi che diventa più chiaro e capito qua devi spingere qui, io ce l'ho anch'io, solo che dopo non so come fare per mandare, potremmo farla qui poi mandarla là, dove devo spingere? Io non ti vedo mica Marco, vedo me, vedo me, ecco adesso vedo, si vede solo mezzo busto